esistono malattie che colpiscono i bambini ancora poco conosciute una di queste è la sindrome di dravè una malattia genetica che potrebbe colpire chiunque per combattere l'impegno e lo sforzo di pochi non bastano serve l'aiuto di tutti sostiene anche tu la ricerca con me invia il tuo contributo vai al sito www.draveitalia.org